Goli nero azzurri, un saluto da Roberto Scherpini, collegati con il Meazza per gara 3 del gruppo D della Champions League 23-24. Attenzione Kiergaard, palla filtrante per Klauck, il tiro! E la grande parata di Sommer. C'ha l'attenzione, Mkhitaryan, il velo, attenzione, il tiro! E' gol! 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 Il Nigno! Il Nigno! Itter in vantaggio! Primo gol stagionale per il Nigno. Palla morbida, attenzione, Pavardi, colpo di testa! Salvataggio! Salvataggio clamoroso. Punta l'avversario, mette la freccia, va dentro, cross morbido, interno area. La palla buona, Carlos Augusto! Cerca il tiro di sinistro. Palla che taglia nuovamente l'area di rigore. Non trova lo specchio grande e termina a lato. Si libera anche di De Vrij, Kiergaard, pericolo! Il gol del pareggio! Con una bella azione lo segna Oscar Glauck. Eh! Bisogna fare attenzione. Palla buona dentro l'area di rigore. C'è un atterramento e poi il tiro di Sanchez e del calcio di rigore. Parte il Sultano. Il suo tiro. E' gol! 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 Parte in Champions League. L'arbitro guarda il cronometro e dice che basta così. L'Inter batte il Red Bull per due reti a uno. Vittoria meritata, vittoria sofferta. Come è giusto che sia sempre in Champions League. Grazie a tutti.